Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 Luglio 87. C'è grande entusiasmo, c'è grande voglia di iniziare e di fare come tutti sappiamo e come tutti ci auguriamo un percorso importante. C'è grande voglia di iniziare insieme un percorso importante. Sono parole dell'allenatore della Cavese Daniele Cinelli, rese attraverso i canali ufficiali del club alla vigilia della partenza del gruppo squadra per il ritiro di Camigliatello Silano. Un ritiro al quale saranno presenti anche i nuovi rinforzi, il centrocampista Facundo Ospitalecce, nato in Uruguay 27 anni fa, e anche il difensore centrale Magnus Troisht, danese, nato a Copenhagen nel 1987. Qui vedete alcune azioni di Ospitalecce. Buon sinistro, visione di gioco, con un passato in Colombia e in Messico, oltre che nel natio Uruguay. Ha all'attivo 10 presenze nella propria nazionale giovanile, anche un gol, e proviene dalla formazione uruguaggia del Racing. È il terzo sudamericano che la Cavese ingaggia in pochi giorni, dopo Mori e dopo Buschiazzo. Invece Troisht, già nazionale danese, è specializzato nel ruolo di centrale difensivo. In Italia aveva già giocato tra Serie B e Serie C, anche con Parma, Atalanta, Varese, Lanciano e Juve Stabia. Il calciatore, di fatto, sarà pronto a scendere in Serie D per la prima volta in carriera, dopo essere stato molto vicino a farlo con il Nola. I metelliani avranno bisogno, ovviamente, di tempo per potersi integrare tutti assieme. Rispetto alla scorsa stagione, adesso è una squadra tutta quanta nuova, con pochissimi riconfermati, per cui ci vorrà molto lavoro collettivo sul campo. Cinelli tiene conto di questo aspetto, che non è da trascurare, ma non è spaventato. Non ci aspettavamo che i giocatori stessero così bene fisicamente, ha detto il mister, quando gli è stato chiesto di commentare i primi giorni di raduno. Lunedì e martedì il gruppo si è ritrovato al Simone Talamberti, e lì il mister ha voluto rendersi conto delle condizioni fisico-atletiche dei giocatori. Tra l'altro è stato visto al campo anche Mattia Maffei, il terzino sinistro, che ha molto mercato, ma finché è un tesserato della Cavese è ovvio che si allena. Oltre una ventina gli atleti che si sono presentati e poi sono partiti per il ritiro in Calabria. Non c'è tra questi l'altro esterno Francesco D'Amore, che è già passato al professionismo nelle file della Juve Stabia. Cinelli si è espresso anche sul pubblico, ben presente ieri allo stadio, per un semplice raduno. Bella cosa vedere tutta la gente allo stadio a seguire un allenamento. Ci dà consapevolezza che questa società e questa città meritano altro che la D, prosegue il tecnico. Li ringraziamo sempre e sappiamo che rappresentare Cavarettileni è un onore e anche una responsabilità. Intanto, chi giocherà in Serie D avrà grandi possibilità di evitare la casertana, che stando a fonti ufficiali della Federazione Italiana Gioco Calcio, sarebbe la principale candidata al ripescaggio in C, qualora i posti liberi nella terza serie fossero almeno tre. Quindi potrebbero non farcela Alcione e Fano, tra le società che hanno frequentato la D. Un posto assicurato ce l'ha già in Mantova, che sostituirà il rinunciatario Pordenone.